La spina tedesca mi ha fatto perdere la pazienza per l'ennesima volta, quindi ho deciso di decapitarla e trapiantare una spina italiana. Per fare un lavoro come si deve bisogna giuntare i cagli, stagnarli ed isolarli con una guaina termorestringente. Già che c'ero ho allungato il cavo ed inserito un interruttore riciclato con delle parti mancanti, quindi per il fissaggio ho dovuto improvvisare. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse invitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.